Buonasera, benvenuti a otto e mezzo, avete sentito che ha parlato il presidente francese Macron e praticamente ha preso delle misure all'italien, è stato chiuso anche lo spazio di Schengen, le frontiere e sta parlando anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha detto che pensa che per luglio-agosto negli Stati Uniti questa epidemia potrebbe finire, non sappiamo bene in base a quali dati scientifici, per il momento non vengono limitati i viaggi interni e dice che il virus non è sotto controllo in nessun posto del mondo ma quello che è sotto controllo è il lavoro dell'amministrazione americana. Vi aggiorneremo naturalmente ma adesso saluto subito i miei ospiti, intanto Massimo Giannini che è qui in studio con me, direttore di Radio Capital, editorialista di Repubblica e buonasera benvenuto Walter Ricciardi, membro dell'esecutivo dell'OMS, consulente del Ministero della Salute buonasera Guido Brera, finanziere e scrittore, buonasera Alessandro Sallusti, direttore del giornale avete sentito, stanno parlando i leader internazionali, è una pandemia per l'appunto e ormai molti capi di Stato e di Governo stanno prendendo le misure all'italienne, all'italiana quindi chiusura se non totale, semitotale e il nostro Governo come sapete ha varato il decreto oggi che stanzia 25 miliardi di euro per sanità, lavoro, per l'economia in generale che sta soffrendo e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha voluto lanciare un messaggio solo oggi fate test, 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 cioè fare i tamponi, fare i tamponi tutti subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti Ecco il Presidente americano Trump che sta parlando in questi minuti ha appena detto che gli Stati Uniti potrebbero andare in recessione, che i mercati azionari finita l'epidemia avranno dei numeri strepitosi. Allora Professor Ricciardi, un po' è incredibile constatare come capi di Stato e di Governo Macron poco fa e Trump adesso stiano adottando misure del tutto simili se non uguali a quelle prese dall'Italia già due settimane fa e dall'altra insomma cercano di dare delle iniezioni di ottimismo laddove per il momento non c'è tanto spazio probabilmente ma glielo chiedo a lei e le chiedo anche, siccome il Governo oggi ha stanziato 25 miliardi di euro, tre e mezzo per la sanità e la protezione civile, non sono troppo pochi questi soldi per questa emergenza sanitaria? Beh è un inizio però un inizio importantissimo perché negli ultimi vent'anni non c'era mai stata un'iniezione così forte per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, migliaia di assunzioni, milioni per rafforzare le strutture, le apparecchiature, la possibilità di assumere medici, anche un provvedimento importantissimo che inseguivamo da anni, la laurea abilitante per i medici che dovevano fare un ulteriore esame dopo la laurea e in questo momento ci mette a disposizione 10 mila giovani colleghi subito per questa emergenza, quindi sono misure importanti, è chiaro che bisogna continuare su questa strada però è un inizio molto importante. Senta professor Ricciardi, siccome Trump ha appena detto che la pandemia in America potrebbe finire a luglio-agosto, uno le chiedo se questo è vero per l'America, per noi in Italia e in Europa quali sarebbero i tempi, le lo chiedo anche perché il governo oggi ha precisato che questo di oggi è il decreto di marzo, ma ce ne sarà anche un altro ad aprile, quindi vuol dire che anche il governo e voi state pensando a tempi molto molto lunghi che ci fanno andare all'estate e anche oltre l'estate. Purtroppo questo è un nuovo virus, se noi lo paragoniamo all'esperienza che abbiamo avuto nel 2009 con la SARS, che era un virus meno contagioso anche se più letale, finì verso maggio-giugno, quindi questo che è molto più contagioso io credo che andrà oltre. Oggi ci siamo visti tra i migliori epidemiologi e studiosi del mondo, ci siamo confrontati proprio per sostenere che questa è una battaglia lunga, quindi bisogna armarsi di pazienza e di determinazione. E quindi lei non si sente di fare una previsione come ha fatto Trump per gli Stati Uniti quando dice fine della pandemia a luglio-agosto? Lei cosa pensa? No, io credo che nel nostro caso possa arrivare un po' prima, nel senso noi siamo partiti prima e speriamo di risolvere prima. Quando tre settimane fa a Bruxelles noi dicevamo che questo sarebbe stato un fenomeno mondiale venivamo presi un po' per, non voglio dire pazzi, ma comunque per stravaganti. Poi due settimane fa abbiamo varato questi provvedimenti e nessuno pensava di seguire. Oggi ci stanno seguendo tutti, stanno tutti capendo che questo è un fenomeno epocale. Io credo che noi finiremo un po' prima, però questo non risolve il problema perché trattandosi di pandemia è importante che finiamo tutti perché altrimenti il virus esce da una porta e può rientrare da un'altra. E il test su un primo vaccino che comincerà a giugno è una notizia molto importante che ci fa essere ottimisti sui tempi per avere un vaccino anti-coronavirus? Ci fa essere ottimisti ma i tempi di un vaccino non sono inferiori a un anno e 18 mesi perché chiaramente significa che oggi o nei giorni scorsi è cominciata una sperimentazione di fase 1 ma la sperimentazione di fase 1 è finalizzata a vedere che questo nuovo vaccino non sia dannoso perché prima che essere efficace deve essere sicuro e deve essere poi anche efficace. Questo poi verrà sperimentato in fase 2 e in fase 3. Viene fatta un'accelerazione frenetica. Ci sono 20 le strutture che nel mondo stanno cercando un nuovo vaccino però più di tanto non si può accelerare proprio per la sicurezza di chi poi questo vaccino lo deve ricevere. Massimo Giannini, Trump ha appena detto che gli Stati Uniti sosterranno al 100% le compagnie aeree che è uno dei settori che naturalmente è in sofferenza totale perché se tutti stanno fermi nessuno viaggia più, le frontiere sono chiuse, sempre più chiuse. Per tornare alla manovra da 25 miliardi, quando il Premier Conte dice che questi 25 miliardi attiveranno 350 miliardi, in concreto come? Beh, intanto diciamo subito una cosa, dal punto di vista del principio, l'impatto di questa manovra, ci sarà tempo per valutarne le carenze perché sicuramente ci sono alcune cose che andavano fatte meglio, gli adempimenti fiscali selettivi rinviati, forse fondi insufficienti per la sanità, però qui c'è un dato fondamentale che noi dobbiamo mettere a fuoco. 25 miliardi sono un importo rilevante per un paese come il nostro, danno la misura del fatto che forse l'Italia tardivamente ha percepito che c'era bisogno di una sorta di whatever it takes, almeno da parte nostra per usare una formula che inventò Mario Draghi nel 2012 per salvare l'euro, a qualunque costo, dobbiamo sostenere l'economia a qualunque costo. Scusami anche i ministri dell'economia, l'anno europei che si sono riuniti, hanno appena detto questo, whatever it takes. Poi arrivo al punto che tu mi chiedevi, è vero i ministri dell'economia dell'Europa lo hanno detto, Ursula von der Leyen alla fine della scorsa settimana ha fatto un discorso molto bello rievocando quello che fece John Kennedy davanti al muro di Berlino quando disse siamo tutti berlinesi, Ursula von der Leyen ha detto siamo tutti italiani, peccato che l'Unione europea finora abbia stanziato 25 miliardi per l'emergenza coronavirus in Europa, che è la stessa cifra che abbiamo stanziato noi da soli per il nostro paese. L'Europa in questa vicenda è stata un disastro, dobbiamo dirlo, adesso anche gli altri stati arrivano alle nostre misure drastiche ed emergenziali, all'economia di guerra che noi abbiamo avviato dopo averci anche sfottuto per alcuni giorni. Come si movimentano 350 miliardi? Lo ha accennato il Presidente del Consiglio attraverso la garanzia statale, soprattutto sui mutui e prestiti, questo può consentire alle banche di mettere in circolo tanti tanti soldi che arrivano con moltiplicatore a quelle cifre là tendenzialmente, però ripeto la cosa che è fondamentale è dare l'impressione che l'Italia va al di là dei vincoli, i paletti, il patto di stabilità, il fiscal compagno. E questo è successo chiaramente. Siamo in guerra, l'ha detto Macron tre volte stasera, l'ha capito tardi, ma ha ragione. Allora in guerra serve un'economia di guerra, se l'Europa non lo capisce andiamo a sbattere. Alessandro Sallusti, anche l'opposizione in Italia sembra abbastanza soddisfatta di quello che ha fatto il governo Conte oggi, certo la Meloni ha detto che è un primo cerotto, ci vuole altro, Salvini ha detto che non basta, ci vuole altro, ma probabilmente è quello che deve dire l'opposizione, no? Penso proprio di sì, bisogna dare atto che il governo ha fatto il massimo che poteva fare, 25 miliardi, attenzione sono in debito e per un paese indebitato come il nostro, come ha detto Massimo, non sono pochissimi, anzi sono tanti, e li ha messi tutti in un colpo solo. Una prima ipotesi era di diluirli un po' alla volta e vedere cosa succede, sarebbe stato un disastro, invece hanno avuto coraggio, li hanno messi come puntare tutto su un numero e sperare di vincere, anche perché dubito che ce ne daranno o che ne avremmo altri 25 essendo tutto in debito. Oggi però non è una giornata bruttissima perché per la prima volta a titubare non è il governo ma è il virus, dentro numeri che restano drammatici, però per la prima volta non c'è una crescita esponenziale ma una crescita lineare, questo per certi versi fa ben sperare. Della manovra di oggi dico solo una cosa, che hanno fatto bene, sono stati bravi, potevano non fare la furbata di annunciare che si possono non pagare le tasse al pomeriggio del giorno in cui molti italiani le avevano pagate al mattino, perché oggi è giorno di pagamento fiscale. Questo lascia aperto il sospetto che hanno portato a casa qualcosa all'ultimo secondo, perché avrebbero potuto tranquillamente annunciarla ieri questa manovra. Ecco, l'Eurogruppo ha detto ok alla flessibilità e probabilmente ci sarà proprio uno stop al patto di stabilità, quindi ai limiti della spesa pubblica, importante soprattutto per un paese come l'Italia. Guido Brera, per le borse in ogni caso è stata una giornata drammatica, un'altra giornata nera, Milano ha chiuso a meno 6%, lo spread è a 262 punti. Come li legge lei questi numeri? Ma leggo che una cosa facile che si poteva fare la scorsa settimana era chiudere gli spread, quella era l'unica cosa facile, un calcio di rigore, no? Perché chiudere gli spread avrebbe garantito di fare deficit e di indebitarsi a tutti quanti allo stesso livello. Se siamo in guerra è impensabile stare in guerra con dei tetti alla spesa, è impensabile stare in guerra e non poter stampare la propria moneta, è impensabile stare in guerra all'interno di un trattato come quello di Maastricht. Quindi l'unica cosa che si poteva fare facilmente non è stata fatta. Il tema vero è se non è stata fatta per un errore, come è stato poi detto dall'Avvocatessa Lagarde, oppure se non è stata fatta intenzionalmente. E su questo non ci sono ancora risposte. Una volta che tu perdi la figlia dei mercati è molto difficile riconquistare. Le borse si muovono di conseguenza. Quello che però voglio dire è che le valutazioni di alcune borse, in particolar modo quelle italiane, sono arrivate a livelli molto interessanti. Il mondo non è che finisce, non è che finiremo e non consumeremo più energia elettrica, non compreremo più macchine, non metteremo più la benzina, non ci saranno più i supermercati. L'economia rimane e noi la dobbiamo tenere in piedi in questo momento che ha bisogno di ossigeno. Ma poi tutto quanto tornerà sicuramente come prima. E questi prezzi già oggi sono prezzi estremamente interessanti che nel lungo periodo sicuramente ci porteranno delle soddisfazioni, in particolar modo l'istino italiano. Allora, ha detto Gualtieri, il nostro Ministro dell'Economia, che la Christine Lagarde è pronta a fare tutto il necessario. Quindi la Presidente della Banca Centrale Europea, lo vedremo. Professor Ricciardi, diceva prima Alessandro Sallusti che il coronavirus sta dando una tregua in Italia. Lei è d'accordo? Leggendo i numeri che sono stati dati oggi dalla protezione civile, abbiamo visto che il numero dei contagiati è in ribasso, ma c'è troppo ottimismo? C'è troppo? Come li dobbiamo leggere? No, noi lo speriamo però è ancora troppo presto. Quello che presumibilmente sta succedendo è che queste misure di contenimento che noi abbiamo attuato stanno diminuendo l'aumento. È strano a dirlo, è difficile a spiegarlo. Però sicuramente l'aumento c'è ancora e probabilmente un aumento che si stabilizzerà al nord. Probabilmente questa settimana vedremo un po' di aumento in più nel centro-sud e poi speriamo che tra due e tre settimane diminuisca in tutta Italia. Questo ovviamente è l'auspicio, credo che raggiungeremo questo obiettivo, però è ancora troppo presto per parlare. Senta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che il nostro messaggio chiave è fare test, test, test. Mentre invece il nostro Istituto Superiore della Sanità pensa che non sia necessario. Ma non è necessario perché non avremmo comunque abbastanza tamponi e non è sensato pensare che fare a tutti un test forse aiuterebbe a fare un lavoro di prevenzione maggiore? No, guardi, le parole di Tedros che noi interpretiamo sempre con la nostra sensibilità occidentale in realtà sono rivolte soprattutto all'Asia, all'Africa e all'America Latina dove praticamente non fanno neanche un test o ne fanno talmente pochi che non riescono a identificare i loro contatti. Tedros quando parla di test, test, test dice all'Africa che in questo momento non ha neanche molto spesso la capacità di farli. Dice all'America Latina dove è preoccupato che il virus si possa diffondere. Ma lo pensano molti anche da noi, professor Ricciardi, mi scusi se la interrompo, lo pensano anche molti da noi. Ma da noi diciamo invece vale, no no capisco, ma da noi è importante spiegarlo, vale la pena seguire le linee guida che proprio l'OMS ha fatto, cioè sostanzialmente di fare tamponi alle persone sintomatiche che hanno fattori di rischio e che quindi in qualche modo possono essere tempestivamente isolate e trattate. E' chiaro che da noi la capacità di fare test è molto più diffusa, tant'è vero che in una prima fase ne abbiamo fatti molti di più del resto d'Europa. Però in questo momento la nostra modalità di fare test è quella più adeguata e quella che risponde alle linee guida dell'OMS. Io sono assolutamente d'accordo con la linea dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Senta, e quando Zaia, il governatore del Veneto, dice che se va avanti così lui in Veneto, Veneto dichiarerà il coprifuoco? Beh, io ho sempre sostenuto da tre settimane da quando collaboro che per vincere l'epidemia ci vuole un'unica catena di comando decisionale su tutto il territorio nazionale. L'ho detto anche ai tedeschi che in effetti si trovano nelle stesse difficoltà e agli spagnoli. Non è un caso che i paesi che hanno più problemi nell'adottare decisioni rapide sono i cosiddetti i paesi federali. Con questo non voglio negare che ci siano dei vantaggi nel federalismo o nella devoluzione. Però questi svantaggi svaniscono tutti quando si tratta di entrare in guerra con un virus. Perché se ognuno fa per conto suo i virus non guardano alle circoscrizioni, alle giurisdizioni, ma penetrano e si insinuano tra questi meccanismi decisionali asimmetrici. Quindi quando si dice che dobbiamo vincerla tutti insieme si dice tutto il mondo. È proprio quella debolezza che noi imputavamo all'Europa e la stessa che naturalmente non dobbiamo imputare all'Italia. L'Europa si trova nelle stesse condizioni, non ha nessun potere di convincimento nei confronti degli Stati membri che fino ad oggi hanno fatto ognuno per conto suo e questo è il risultato. Quello che finisce in una regione comincia in un altro una settimana dopo, quello che finisce in un paese comincia in un altro. Dobbiamo metterci in testa che la linea di comando, almeno a livello nazionale, deve essere unica. Speriamo che debba essere unica anche a livello europeo. Allora Massimo Giannini, intanto Wall Street sta perdendo quasi il 13%, quindi intanto vuol dire che le parole del Presidente Trump non stanno rassicurando per niente, non bastano, non funzionano. Tu hai scritto che siamo in un mondo privo di veri leader, hai però riconosciuto che il Premier Conte in questa circostanza è di una sorprendente determinazione e l'Europa sembra anche seguirlo, quindi è una fase completamente nuova anche questa del Premier Conte. Non voglio personalizzare troppo, diciamo nell'insieme il governo italiano ci è arrivato in modo un po' abborracciato, inseguendo un po' l'emergenza, ma alla fine abbiamo dimostrato una notevole capacità di affrontare con la giusta determinazione un nemico enormemente più grande di noi e adesso lo stiamo vedendo. A ragione Conte oggi quando dice che l'Italia suo malgrado, a suo modo, è diventata un modello a livello internazionale. Purtroppo, e questo ci deve preoccupare soprattutto per il dopo, perché nell'immediato, nel fronteggiare questa emergenza, come stiamo vedendo, tutti stanno arrivando più o meno alle stesse conclusioni. Dolorose, stiamo gettando alle ortiche anni e anni di utopia europea. Se pensiamo a... Speriamo di no. Beh, insomma, se salta Schengen, se l'Europa si blinda, la fortezza europea nasce su basi purtroppo completamente sballate stavolta. Ecco, tutto questo ci preoccupa per il dopo, perché la leadership mondiale non c'è. Se noi pensiamo che Trump e Johnson hanno fatto gara... Madrid dice che verrà convocato un G20 straordinario. Ecco, hanno fatto a gara chi la sparava più grosse. Le istituzioni sovranazionali, BCE in testa, Fondo Monetario, ora lo vedremo, non hanno certo brillato. Putin e Bin Salman, lo zar russo, e il Principe Saudita, in una situazione come questa, hanno visto bene di gettare petrolio sul fuoco, innescando una guerra sul greggio, folle in un momento come questo. Ecco, se pensiamo a come poi dovrà essere ricostruito il sistema economico del pianeta, con questa carenza drammatica di leader che abbiamo, purtroppo questo non ci fa sperare per il meglio, ed è questo che mi preoccupa. In questo scenario, persino Conte, che non era stato particolarmente brillante nei mesi passati, ha dimostrato di essere, non voglio dire uno statista, ma un buon primo ministro in questo frangente. Per il dopo bisognerà vedere. Sei perplesso, Alessandro Sallusti? No, 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 perplesso no, però senza voler nulla togliere alla capacità del nostro premier, bisogna, rivedendo il film delle ultime settimane, il premier, qual è stata la sua grande intuizione? di seguire, sia pure con degli stop and go, le ricette che arrivava dai governatori del Nord, che erano quelli nel cratere del focolaio. Se prima la Lombardia, poi il Nord e poi l'Italia è stata chiusa, se sono state prese misure drastiche, sono state prese perché le regioni del Nord lo hanno prima chiesto e poi, come dire, con una certa fermezza poi anche. E quindi, per carità, tutti i meriti al premier Conte, ma non dimentichiamoci che il cervello dell'operazione sono stati i governatori del Nord. Ecco, intanto Gentiloni ha appena detto che serve risposta pari alla gravità della situazione. Professor Ricciardi, posso farle una domanda forse ingenua, forse, ma c'è un punto che ancora non è così chiaro. Chi ha preso il coronavirus ed è guarito? Lo può riprendere il coronavirus o è immune? Allora, questo è un nuovo virus, per cui non sappiamo esattamente come si comporta. È chiaro che chi lo ha preso sviluppa una risposta immunitaria. Quello che non sappiamo è se questa risposta immunitaria è duratura o addirittura permanente. Lo stiamo in qualche modo monitorando. Sulla ricidiva c'è stato soltanto un caso, in questo momento documentato in letteratura scientifica, sono pochissimi, per cui quello che noi auspichiamo è che una volta presa non si riprenda, però lo dobbiamo ancora accertare al 100%. Senta, e la cura? Si parla di questi farmaci, alcuni sono farmaci contro l'artrite romatoide, poi ci sono altre medicine. Finora che cos'è che funziona meglio? Si può pensare di avere un abbozzo di cura? Guardi, la cosa importante di oggi è che l'AIFA e il Ministero della Salute hanno deciso di fare un protocollo nazionale, cioè di coordinare a livello nazionale l'esperimentazione che sui farmaci vengono fatti nel nostro Paese, incluso quello a cui ha accennato. Secondo me questa è una cosa importantissima, perché finalmente noi abbiamo un protocollo nazionale che poi cerchiamo di estendere a tutte le regioni in maniera tale da garantire, anche in questa circostanza difficile, che tutti i cittadini italiani, indipendentemente dal luogo di residenza, possano accedere alle cure migliori. Io sono convinto che arriverà prima la cura, per quello che dicevo prima, cioè una terapia più specifica. Quale di queste non lo sappiamo, perché di fatto in tutta Italia e in tutto il mondo le migliori menti e le migliori capacità sono proprio al lavoro. Ma la cosa importante dell'Italia, anche questo credo è un'innovazione importante, è che ci sarà un coordinamento nazionale del Ministero della Salute e dell'AIFA per questo tipo di sperimentazione. Professor Ricciardi, in generale possiamo dire che gli italiani stanno osservando molto attentamente le vostre indicazioni, le regole, divieti, non divieti. Se c'è una cosa sulla quale sono ancora poco attenti, quale sarebbe? No, io direi, come ha detto, che il 90% degli italiani segue ancora qualcuno, una percentuale minore no, però la cosa più importante da segnalare è il distanziamento sociale, cioè anche quando si va a fare la spesa, anche quando si esce per cose essenziali, bisogna tenere un'adeguata distanza. Questa è la cosa che a volte nelle città in qualche modo vediamo da parte di qualcuno. Ecco, questa attenzione deve essere costante, perché è proprio il distanziamento che garantisce alle persone e quindi alle collettività di non trasmettere la malattia. Quindi ricordiamo ancora una volta, distanza di sicurezza di almeno un metro, giusto? Esatto. E poi stare a casa. E poi stare a casa e poi l'altra cosa importante, quando si rientra da casa, da fuori a casa, lavarsi le mani, cioè il lavaggio delle mani è l'unica operazione che da sola può prevenire il 50-60% dei contagi. Questa è veramente un'operazione che bisogna imparare a fare costantemente e continuamente. E togliersi le scarpe, professore, sbaglio? Ma questa è una misura igienica generale, nel senso che lei sa che nell'ambiente circostante abbiamo migliaia di virus, batteri, non necessariamente il coronavirus. Le misure igieniche dicono che quando uno torna a casa dall'esterno le scarpe le deve riporre in un ambiente confinato, così naturalmente è opportuno che si cambi i vestiti, cioè non utilizza a casa i vestiti che ha utilizzato fuori e poi dopo aver fatto questa operazione si lavi le mani. In questo modo il virus, anche se è presente, viene neutralizzato dal fatto che non ha la capacità di entrare all'interno del nostro organismo e quindi di provocare la malattia. Ecco, ci sono sempre delle nuove cose che apprendiamo importantissime. Guido Brera, volevo chiederle ancora una cosa sul proposito dell'economia, perché abbiamo detto che la riunione del G7 gli è uscito anche da lì il messaggio fare tutto quello che è necessario per garantire la crescita, ma le chiedo come si fa a garantire la crescita quando ormai sempre più paesi vanno verso il lockdown, verso la chiusura totale e la gente sta sempre di più a casa? Leggendo il documento di oggi del G7 addirittura dicono che vogliono ripristinare una crescita ancora più alta di quella che avevamo, cosa che io dubito, secondo me la crescita è stata fin troppo alta soprattutto per gli Stati Uniti. Il tema oggi è fermare questo blackout. Nel 2012 abbiamo avuto appunto un whatever it takes, cioè fare tutto il necessario fatto da un leader, un whatever it takes monetario fatto da un vero leader. Oggi abbiamo bisogno di un whatever it takes politico fatto da un leader politico e a proposito di prima purtroppo i leader politici mancano. Il tempo stringe, siamo a un bivio o andiamo avanti per esempio con degli euro bond o qualcosa del genere che garantiscano tutta l'Europa oppure ahimè a questo punto si tornerà indietro e il sogno europeo svanirà. Speriamo che lei abbia torto ma naturalmente ci vuole un impegno enorme, un impegno da parte di tutti. E a proposito di leader politici e non che sono un po' scarsi oggi in giro per il mondo. Voglio chiedere in chiusura sia a Massimo Giannini che a Alessandro Sallusti perché guardate come è stato visto, vediamo la foto, il leader dell'opposizione Salvini a passeggio con la fidanzata a Roma, lui ha detto mentre andavano a fare la spesa. Allora il Movimento 5 Stelle ha detto che insomma una persona pubblica non può dare questo cattivo esempio, non c'è la famosa distanza di sicurezza di almeno un metro, eccetera, eccetera. Per un politico così popolare, così noto, è un messaggio scorretto? È un messaggio scorretto per due motivi. Primo perché quello che ha detto non è vero, a Via del Tritone non ci sono supermercati a Roma, quindi è chiaro che stava facendo una passeggiata e per questo il messaggio è scorretto perché purtroppo contraviene a tutto quello che da giorni, giorni e giorni, non già i politici, non già il capo del governo, benché l'abbia fatto anche lui più volte, ma gli scienziati ci stanno ripetendo e ancora stasera ce lo ha ribadito il professor Ricciardi, bisogna stare a casa. Stare a casa non vuol dire uscire a fare due passi quando ci va, vuol dire stare a casa perché questa volta noi, al contrario di quello che è accaduto in passato, non abbiamo un nemico esterno, abbiamo un nemico interno, non siamo noi in pericolo, noi siamo il pericolo, perché ce l'abbiamo addosso e quindi se non capiamo questo, purtroppo, mi spiace dirlo, perché non c'è da fare polemiche in questo momento politiche, per carità, però Salvini è scivolato su una buccia di banana, se stava a casa non gli capitava. Sei d'accordo Alessandro Sallusti? Beh, più o meno la stessa buccia di banana su cui è scivolato il Papa che è andato in giro a passeggiare per Roma, più o meno nella stessa zona di Salvini e non certo per andare al supermercato, ma a parte questo, questa vicenda sta dimostrando che... Ma forse, scusami Alessandro, forse c'è una piccola sproporzione tra il Pontefice e Salvini, azzardo è un'ipotesi. Sì, va bene, ma anche Conte l'altro giorno era fuori in attesa di entrare in un negozio per fare la spesa, va bene, ho capito che abbia sbagliato o no, ma questa vicenda dimostra secondo me una cosa un po' più alta, che non è vero che i sovranisti e gli europeisti da una parte sono tutti cattivi, dall'altra tutti buoni, perché se guardiamo come si sono mossi fino adesso, Trump e Boris Johnson, due sovranisti nazionalisti anti-europeisti, come si è mossa l'Europa e Macron con ritardo, incertezze e tutto quanto, voglio dire, non è che i buoni e i bravi stanno da una parte e i cattivi dall'altra? No, ma certamente, poi insomma qui noi cerchiamo di raccontare i fatti e di leggerli nel modo diciamo più serio, più intelligente possibile, grazie anche a ospiti come voi e grazie anche ai punti di Paolo Pagliaro. Quello di stasera si occupa dei tanti ragazzi che insieme ai loro professori stanno cercando di continuare ad andare a scuola. Il punto, pochi scondi di pubblicità. L'epidemia di coronavirus sta mettendo alla prova anche la tenuta del sistema educativo. Le scuole sono aperte, ma le lezioni sono sospese e nessuno sa dire quando potranno riprendere. Più passano i giorni, più si cerca di trasferire online la didattica. Non tutte le scuole sono dotate di lavagne interattive multimediali e non tutte le famiglie hanno gli strumenti per connettersi, anche se la maggioranza può farlo. La banda larga ultraveloce raggiunge il 24% della popolazione contro una media europea del 60%. Ma le reti di comunicazione stanno tenendo, nonostante l'impennata del traffico e delle connessioni a internet. Le grandi compagnie come Vodafone, Team, Fastweb, Wind3 e Iliad hanno varato iniziative gratuite anche in termini di offerte di giga per aiutare docenti, studenti e famiglie. C'è un fiorire di iniziative. I ministeri dell'istruzione e dell'università hanno aperto e aggiornano frequentemente una pagina internet dedicata al coronavirus e alla didattica a distanza. Ci sono le piattaforme specializzate, i materiali multimediali, il servizio di assistenza per insegnanti e dirigenti. Ci sono blog molto seguiti come Felici di studiare che propone un kit di didattica a distanza facilmente accessibile anche a chi preferisce o è costretto a preferire l'analogico. Ci sono le iniziative della Treccani, di Tutto Scuola, della Fondazione Agnelli, di molte università, a cominciare da quella di Padova che ha messo online 3.000 insegnamenti e connette in contemporanea oltre 20.000 studenti. Trovano una nuova ragione d'essere i registri elettronici, ma anche Skype, Zoom, Whatsapp. È una rivoluzione da cui la scuola italiana uscirà cambiata, si spera per sempre. Ecco la Conso, vieta vendita allo scoperto per domani, questa è una prima decisione. Gentiloni ha appena detto che il nostro commissario in Europa serve con coordinamento senza precedenti e il ministro dell'economia Gualdiera ha ringraziato le opposizioni e ha detto che il PIL sarà negativo in tutti i paesi dell'Unione Europea e ha ribadito che l'Europa e tutti i paesi sono pronti a tutto. Grazie, grazie ai miei ospiti, grazie professor Ricciardi, grazie Guido Brera, grazie Alessandro Sallusti, grazie Massimo Giannini, grazie spettatrici Grazie a tutti gli spettatori e lascio la linea adesso a Licia Colò con il suo speciale Eden Missione Natura, non perdetevelo, state quindi con noi qui sulla 7 e noi come sempre ci vediamo domani alle 8 e mezzo. Arrivederci.